SET BLUE SET BLUE SET BLUE SET BLUE SET BLUE Voi questo video lo vedete mercoledì E quindi queste sfide sono già state fatte In The Non In Real Life Tipo Italia-Spagna, Colombia-Uruguay Però la sfida è ancora attiva Almeno credo Vediamo se mercoledì... Ok voi questa sfida ormai non la vedete già più Perché scadrà tra due giorni Sto registrando di sabato Ma comunque La prima sfida è quella la più semplice Ovvero Australia-Arabia Quindi io non ve la posso neanche far vedere Perché l'ho già fatta Comunque sono andato a mettere tutti i giocatori Della Arabia Saudita Bronzoni che avevano dei club Perché si trovano in qualsiasi pacchetto Almeno un giocatore arabo si trova Quindi è facilissimo questa sfida Poi Leggermente più complicata C'è quella la Italia-Spagna Che è quella la che andremo a completare Insomma Che vi darà 1000 crediti più Un pacchetto oro premium Quindi saranno quelli da 15.000 se non sbaglio Vi faccio vedere anche chi sono questi giocatori Allora ci abbiamo Diego Lopez Poi Flano Martinez Etexie Vabbè ce li avevo tutti nel club Suarez Questo l'ho comprato invece C'è poi Alvarez Guzman Flano Diamanti Pucciarelli E Pazzini Questa squadra mi sarà costata intorno Cioè costerà intorno Ai Metti 5000 crediti A parte Martinez E Suarez Il resto li avevo tutti nel club Quindi Massimo 5000 crediti Costerà questa squadra Quindi possiamo fare Option Comunica rosa E vediamo che ci danno il premio Quindi 1000 crediti Più un pacchetto giocatori oro premium Perfetto Poi ci abbiamo Quella Colombo Uruguay Che questa qui Si è Leggermente complicata Ma neanche tanto Perché bisogna andare a trovare I giocatori giusti Quelli che costano meno Quindi ho preso Campana Pereira Coates Zapata Fabra Kurtic Kurtic non c'entra un cazzo Però ormai Avevo già fatto tutti gli obiettivi Quindi dovevo mandare un giocatore a caso Ho preso Kurtic Poi abbiamo Vessino Perez Acuna Roland E Ramos Anche questa squadra costerà 5000 crediti Quindi capite che non costa proprio un cazzo E ci danno un pacchetto oro Quindi Eh uno da 5000 se non sbaglio Quindi possiamo fare Invia Comunica rosa E perfetto Chiudi Ok quindi L'ultima era quella la di Francia Non mi ricordo l'altra nazione Porco 2 Comunque ci hanno dato un pacchetto solo giocatori Perfetto Comunque l'ultima sfida era quella leggermente più complicata Che in tutto sono dato a pagare la squadra 15.000 crediti E come ricompensa mi ha dato un pacchetto da 25.000 crediti Poi ragazzi però L'altra sfida quella più importante insomma È questa qui È quella che ha fatto anche Justice nel suo video Praticamente è la sfida ultimate come la crew nostra Per questa squadra ho speso 40.000 crediti Per farla tutta Perché bisognerà avere su tutti i giocatori a fede d'età Quindi fare il minimo 10 partite Potete anche benissimo quittarle come ho fatto io Oppure giocarle se non volete rovinarvi lo storico Poi I giocatori devono essere questi per forza Perché ho anche tipo Ho detto Medaio costa troppo Provo a cambiare con Dogbia No non riuscite perché Si è bassa la valutazione Proprio questa squadra è calcolata al millimetro Ecco l'unica cosa che ho cambiato rispetto alla Justice è Noble Centrocampo perché l'altro giocatore non me lo faceva trovare Quindi ho messo Noble Che costa anche meno Quindi troviamo Diego Alves Smolnikov Moledo Marchino Solayuna Io Noble Medel Perisic Zazza E infine Jovetic E questo ci darà un pack da 50k Infatti facciamo comunica rosa Ci ho guadagnato fin dall'inizio perché con 40.000 crediti Mi sono ricavato un pack da 50.000 crediti Poi il contenuto si vedrà Però Comunque è già un guadagno Poi questa sfida è molto interessante perché c'è la sfida difficile intermedia E no ok ho sbagliato No c'è la sfida difficile intermedia e di nuovo difficile Che però tutte possono dare buoni premi come qui 1500 crediti e giocatori e pacchetto giocatori oro Quindi un pacchetto giocatori oro premium Mentre che 4000 crediti più un pacchetto giocatori oro rari Questa sfida è sulla avanzata si chiama campionato nazioni misti E infine come premio finale ti danno una divisa non scambiabile food world 11 credo sia E 10.000 crediti quindi davvero davvero un'ottima sfida Questa qua è interminabile mi sembra si perché non c'ha durata Anzi 13 giorni 13 giorni quindi fate in tempo a farvela anche voi questa Abbiamo i nostri 4 pack da andare a riscattare Ok questo qui è quello da 50.000 crediti quindi lo prendiamo per ultimo Direi di partire pack solo giocatori Quindi andiamo signore fammi trovare un bel Ma che schifo già l'oro non raro vaffanculo Belli capelli verdi mi piacciono Camarasa Comunque si possono benissimo ottenere questi pack perché magari ci serviranno per squad building Challenges future Andiamo con il pacchetto oro che è quello semplice da 7.500 Lo possiamo pure schifparlo non troviamo un cazzo Perfetto eccolo qui Poi abbiamo questi qui giocatori oro premium Che sarebbe quello da 15.000 Vediamo oro raro perfetto Portiere Ospina Ok Ospina Poi abbiamo Cabaselli Ma Macusano qua e tutti i giocatori buoni Infine ragazzi Quello da 50.000 crediti dove Justice ha trovato un one to watch se non sbaglio Anzi Royce ha trovato Però io sono sicuro che non troverò Mi piacciono Ospina 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 Bello Bello Viviano Bellissimo Bellissimo Grazie di Esport Ecco in questo caso io non ci ho guardato un cazzo Per i giocatori Però comunque sembra un pacchetto da 50.000 crediti Quello ragazzi è questo video Io spero vi sia piaciuto come state lasciate Un bel like ragazzi Vi ricordo di arrivare a 300 likes Per la nuovissima squad building challenges Vi lascerò qui sopra ragazzi Nelle schede l'episodio di ieri Della carriera Che spero vi sia piaciuto Passate a questa descrizione Per tutti i canali Nel lightning crew Più il sito di credito ragazzi FIFA points market Per acquistare i vostri FIFA points Per questo FIFA 17 Iscrivetevi al canale Sono ancora fatto Che direi ragazzi Qui dalla l'azza è tutto Lo bene